Perfetto. questo è quello che si vede da casa non devo parlare e tu hai un piano di qua brutto va bene potrebbe anche togliere attenzione non so se si sente buona serata a tutti si sente? sono un po' emozionata vai allora ho fatto questa presentazione per fare una sorta di carrellata di tutto ciò che riguarda l'odontostomatologia ovviamente super zippata ma più che altro come spunto per poter riconoscere le problematiche che vengono viste quotidianamente in clinica quindi ovviamente non è che si può si può diciamo con la terapia più adeguata ma semplicemente almeno per iniziare a comprendere perché questa materia è così utile e diciamo quotidianamente tanti casi che possono essere affrontati in quest'ambito quindi lo scopo di questa presentazione appunto è raccontarvi questa branca della medicina veterinaria che risulta attualmente assente almeno in Italia in tutti i corsi di laurea in tutte le facoltà non forse solo a Camerino c'è c'è qualcosa però è assente durante diciamo il nostro percorso di formazione e questa è la scaletta degli argomenti che tratteremo allora perché è così importante principalmente per il fatto che l'epidemiologia dei problemi che riguardano il cavo orale è diciamo la ragione principale ovvero sappiamo dalle statistiche che già 3-4 anni di vita l'80% dei nostri pazienti sia cane che gatto ha già diverse problematiche del cavo orale e in generale tra tutte le condizioni la malattia parodontale è la patologia più comune in assoluto nel cane e nel gatto inoltre le problematiche del cavo orale non hanno solo delle ripercussioni a livello della regione appunto della bocca ma hanno delle conseguenze su tutto l'organismo quindi hanno anche visto che un animale con un cavo orale diciamo in salute può avere anche un'aspettativa di vita più lunga e questo piace molto a chi fa appunto il manager diversi studi anglosassi hanno dimostrato che un investimento in ambito della dentistria dentostomatologia è uno tra i più redditizi oltre diciamo alle problematiche limitate al cavo orale ma con ripercussioni generali per il paziente come ovviamente il dolore che ne influenza ovviamente la qualità di vita sono state dimostrate conseguenze sistemiche anche ad organi distanti molto importanti in particolare cuore fegato e reni e soprattutto una correlazione con una patologia metabolica quale il diabete millito infatti le citochine infiammatorie provenienti dalla malattia parodontale grave inducono insulino resistenza quindi nei pazienti diabetici che non rispondono alla terapia insulinica bisogna sempre cercare di eliminare la causa di infezione infiammazione come sappiamo dal nostro diciamo mister Calgary Cambridge la comunicazione con il cliente è parte fondamentale del nostro lavoro quindi perché è ancora più importante in quest'ambito perché purtroppo c'è moltissima ignoranza sia da quanto per quanto riguarda diciamo i proprietari dei pet ma soprattutto anche dai colleghi che non se ne occupano o colleghi referenti quindi dalle diciamo nostre capacità nel comunicare in maniera adeguata sia con il cliente che magari anche con i colleghi referenti riusciremo a diciamo a convincere il cliente dell'importanza della cura del caporale quindi nel farci affidare il suo il suo pet questi sono tutti diciamo falsi miti o frasi che possono comunemente possiamo sentire comunemente durante una visita odontostomatologica una che in particolare diciamo voglio sottolineare è l'ultima per esempio fisiologicamente i carnivori ingoiano bocconi di carne provenienti appunto dalla preda interi quindi è normale per loro ingoiare il cibo senza masticarlo pertanto anche senza denti in realtà non hanno nessun problema a mangiare sia cibo umido che crocchette per i più scetti c'è alcuni diciamo alcuni esempi poi ne vedremo molti altri dove in realtà un problema localizzato al caporale ha conseguenze sistemiche importanti per esempio questo è un accesso odontogenico ma è ovvio che questo animale sta soffrendo ha un problema serio un altro esempio per esempio sono i tumori del cavo orale questo è un carcinoma spamo cellulare che ha deformato completamente diciamo il profilo del muso di questo gatto o ancora più diciamo devastante come situazione clinica una doppia frattura mandibolare patologica questo animale ovviamente se non si interviene non può sopravvivere cioè non riesce a nutrirsi questo è causato per esempio da semplicemente infezioni ai denti osteolisi per denti patologici quello che è un concetto importante ma essenziale per capire la patogenesi della malattia parodontale è appunto il fatto che il parodonto che sarebbe il tessuto che circonda i denti quando è infiammato infetto equivale a una ferita ok quindi una ferita che cosa succede richiama ovviamente maggiore afflusso di sangue perché l'organismo cerca di ripararla attraverso appunto convoiando cellule infiammatorie fattori dell'infiammazione ma nella malattia parodontale al contrario di tutte le altre ferite dell'organismo l'organismo non riesce a ripararla quindi quello che viene diciamo favorito invece è la trasposizione del torrente ematico di batteri e tossine batteriche quindi più diciamo è avanzata la gravità della malattia parodontale più queste superfici diciamo di lesioni osse sono estese e quindi equivalgono a delle ferite molto estese se noi pensiamo che un cane ha 42 denti se noi abbiamo delle ferite su tutte le radici dentali la possiamo equiparare che cosa a una ferita cutanea quindi estrarre perché io mi diverto tanto a estrarre sempre denti perché estrago così tanti denti perché andiamo effettivamente a dare la possibilità all'organismo di guarire una ferita estremamente estesa che altrimenti non avrebbe modo di guarire fino a che il dente non cade tantissimi proprietari mi dicono quasi sempre alle visite di controllo ma possiamo chiedere anche a una nostra collega per esempio mi viene in mente al cagnolino 15 anni della Morano che dopo aver fatto chirurgie orali importanti anche se sono cani anziani è come se tornano cuccioli giovani perché noi andiamo a togliere meccanicamente la fonte del dolore e dell'infezione e quindi ne miglioriamo in maniera importante la qualità di vita quindi qualsiasi vita qualsiasi visita che voi andate a fare una visita vaccinale ma anche soprattutto una visita di controllo di salute è importante esaminare il paziente from nose to tail dal naso alla punta della coda quindi bisogna sempre guardare in bocca al paziente è ovvio che bisogna contestualizzare perché se c'è un gatto che è un figlio di satana insomma cerchiamo di non farci affettare però veramente con alcuni accorgimenti anche solo alcune superfici del caporale se un gatto è aggressivo è veramente complicato però circa nel 90% dei gatti in visita io riesco quasi sempre almeno in parte con l'aiuto del proprietario magari a valutare il caporale parlando di anatomia regionale di che cosa stiamo parlando dobbiamo sapere che la superficie del caporale è ricoperta da gengiva e mucosa orale che sono due tessuti diversi molto diversi sia dal punto di vista funzionale che istologico la gengiva aderente ricopre e protegge i denti ed è adesa all'osso proprio in maniera estremamente ferma è rigida e non scorre se noi andiamo a toccare la mucosa orale invece è un tessuto molto elastico quindi detto questo vi faccio diciamo giusto delle immagini per vi dovete dire se sono gengiviti o stomatiti ok la gengivite quindi è l'infiammazione soltanto della gengiva aderente che sarebbe quella immediatamente il tessuto immediatamente vicino alle corone dentali per stomatite invece si intende l'infiammazione di tutto lo stoma di tutta la bocca quindi gengiva e mucosa orale se invece si ulcera solo la mucosa orale in alcuni casi rari però può succedere si chiama mucosite quindi questo per esempio che cos'è secondo voi stomatite esatto questa tutte e due quindi sia gengivite che mucosite quindi è una stomatite anche questa questa invece non coinvolge la gengiva quindi questa è una mucosite cioè colpisce solo la mucosa orale e questa è un'ulcera abbasciante si chiama che è un'ulcera da contatto in questo caso la mucosa orale che va in contatto con il dente che ha placca e tartaro diciamo la risposta del sistema immunitario la fa ulcerare quindi dobbiamo far capire al proprietario che la vera diagnosi delle patologie del cavo orale la possiamo avere in realtà solo tramite un esame strumentale radiografico in anestesia generale cioè non possiamo ovviamente da una visita dire che cosa ha il paziente ok a differenza ovviamente dell'odontogliatria umana quindi perché è importante la radiologia intraorale è che io diciamo per dirlo in maniera semplice ai clienti dico l'ortopanorami anche se non è proprio giusto perché il 40% dei denti che alla visita hanno un aspetto esteriore sano in realtà ha dei problemi a livello sotto la gengiva è patologico ok quindi se noi non usiamo le radiografie endorali quasi la metà delle patologie non le individuiamo e quindi neanche le possiamo trattare parlando di singole diciamo malattie patologie abbiamo iniziato già a parlare della malattia parodontale che cos'è come è scritto qui è una patologia plurifattoriale infettivo infiammatoria progressiva cioè è ingravescente cronico ricorrente cioè che ha delle fasi qui escenti e delle fasi in cui è più attiva il primo step è la gengivite che è reversibile quindi se noi andiamo a trattare il paziente possiamo bloccarla la periodontite ovvero invece l'infiammazione dell'osso che tiene fermo il dente invece è irreversibile quindi che succede non l'organismo non riesce in realtà da solo a fermarla né a curarla quindi il meccanismo d'azione che ancora in realtà è in fase di studio non è ben chiaro è plurifattoriale è molto complesso la bocca per esempio vogliamo diciamo così fare una una piccola parentesi normalmente ha 700 specie di batteri è la flora se vengono diciamo meno delle condizioni di equilibrio tra flora batterica sistema immunitario e fattori esterni si scadena il fenomeno infiammatorio la sovracrescita batterica che cosa fa o la la selezione a volte di specie più patogene soprattutto si credeva insomma fino adesso è stato accettato che i gram negativi anaerobi qualcuno ha lasciato l'audio aperto scusate come se vede non lo vedo quindi la selezione di specie di batteri patogene aumenta il rilascio di tossine soprattutto l'endotossina lps e questa che cosa fa stimola il sistema immunitario in maniera importante a produrre citochine infiammatorie come il tumor necrosis factor queste citochine infiammatorie attivano gli osteoclasti che cosa fanno vanno in realtà a attaccare gli stessi tessuti dell'organismo quindi vanno a mangiare l'osso si provoca che cosa la lisi ossea e questa lisi ossea si può misurare che sono i vari stadi della malattia prodontale che sono appunto quattro quindi più si arriva diciamo in profondità nell'osso più lo stadio è avanzato il quarto stadio diciamo è quello poco prima quando il dente ha già praticamente mobilità quindi l'ultimo stadio poi alla fine il dente viene perso quindi una volta che noi diagnostichiamo il grado di malattia prodontale che abbiamo detto con le radiografie ma anche con l'utilizzo di alcuni strumenti la andiamo a trattare questo viene fatto tutte le volte che viene fatta una procedura dentale quindi si fa lo studio radiografico il sondaggio dente per dente si individua in che punto siamo diciamo in che stadio siamo della patologia se siamo a uno stadio iniziale quindi lo stadio uno o due si procede con la pulizia con ablatore sopra e sotto la gengiva soprattutto che è la ragione anatomica dove la malattia prodontale è più attiva quindi se non si lavora in realtà in quel punto sotto gengivale tutto il procedimento è quasi inutile ok quello che stai facendo è solo estetico negli stadi successivi bisogna estrarre i denti perché la tasca nell'osso è così profonda che non c'è modo diciamo di far ricrescere l'osso solo in alcuni casi veramente con clienti estremamente motivati si possono fare delle rigenerazioni di tessutali particolari ma quando la malattia prodontale è al terzo quarto stato bisogna estrarre il dente siamo fatti quindi questo sempre per ripadire che nelle tasche bisogna andare a togliere la placca al tartaro e soprattutto il tessuto di granulazione infetto che è la risposta dell'organismo appunto alla malattia prodontale e poi una volta diciamo eseguita l'ablazione del tartaro bisogna fare la lucidatura dello smalto che anche questo è importante ne parliamo dopo quindi se ci troviamo di fronte a una situazione di malattia prodontale terminale ultimo stadio capite bene che fare una pulizia su dei denti marci non ha senso ok è negligenza è malpractice quindi se diciamo non possiamo non siamo in grado non abbiamo gli strumenti per eseguire delle estrazioni totali anche come in questo caso bisogna riferirlo per forza perché cosa succede se non viene trattato adeguatamente un paziente del genere con una situazione così grave ci sono delle conseguenze anche molto importanti dal punto di vista della salute del paziente ma poi avremo un cliente probabilmente incazzato nel senso che quando poi magari capita nelle mani di uno specialista gli dice guarda sì hai pulito i denti ma i denti sono marci sono tutti marci quindi vanno estratti quindi quali sono queste conseguenze oltre al livello locale della bocca la batteriemia è la diffusione il torrent ematico di messaggeri dell'infiammazione tossine batteriche e batteri questo succede comunemente anche a noi quando ci laviamo i denti in minima parte hanno fatto degli studi che anche quando noi ci laviamo i denti c'è un passaggio di tossine batteriche e batteriche nel sangue ma tutto diciamo dipende ovviamente dalla quantità cioè da quanti sono questi batteri e queste tossine batteriche e dal fatto che un organismo sano riesce comunque a in 10-20 minuti ad azzerare la batteriemia perché si attiva tutto il discorso del sistema immunitario quindi se immaginatevi vengono continuamente diffuse tossine batteriche abbiamo delle conseguenze ci sono due studi che hanno dimostrato proprio a livello istologico che a livello di cuore reni e fegato nei cani con malattia parodontale grave ci sono delle differenze quindi i batteri trasportati dal sangue che colonizzano l'endotelio cardiaco predispongono che cosa? alle endocarditi così come al mixetema delle valvole cardiache cioè si gonfiano si infiammano le valvole cardiache inoltre la costante presenza di fattori infiammatori dello stress infiammatorio che sono per esempio la proteina ciriattiva la sieramiloide che vengono prodotte dal fegato anche questo ha delle e risultano spesso aumentate in corso di malattia parodontale non sempre perché perché come vi dicevo ha dei cicli a volte in una fase quiescente a volte in una fase più attiva se noi becchiamo diciamo il paziente che è nella fase attiva troviamo in realtà un aumento della contale gocitario un aumento appunto dei fattori dello stress e ci sono anche altre diciamo analisi analitiche che possono risultare diciamo alterate perché questo me ne sarete resi conto diciamo anche vedendo che tipo di pazienti tratto quotidianamente perché i cani di piccola taglia sono così sovra espressi sovra rappresentati per quanto riguarda le malattie del cavo orale è vero che ogni individuo è a sé stante cioè essendo una malattia multifattoriale tanto dipende dal sistema immunitario del singolo però i cani di piccola taglia con la selezione dell'uomo diciamo alcuni fattori non si sono ridotti di dimensioni in maniera proporzionale vedete per esempio la mandibola a sinistra di un cane di 50 kg e quella a destra di un barboncino toy il rapporto tra la grandezza del dente e la quantità di osso e lo spessore d'osso della mandibola è impressionante cioè in un barboncino il dente occupa tutta la mandibola quindi questo lo predispone tantissimo alla malattia parodontale perché i denti sono tutti appiccicati tra loro ok quindi c'è un si dice sovraffollamento si puliscono meno con la masticazione ma soprattutto essendoci pochissimo osso questo va rapidamente incontro all'isi quindi si consumerà molto prima ok un'altra patologia frequente sono le patologie endodontiche cosa significano allora le patologie endodontiche come vedete nel disegno a sinistra quella diciamo l'anatomia di un dente il dente ha la cavità pulpare che contiene la componente vascolare connettiva lo mantiene vivo la parte viva diciamo questa parte in realtà all'interno è sterile non ha batteri ci possono essere varie cause che portano alla morte della polpa poi le vediamo ma la conseguenza è sempre una lesione periapicale che vuol dire che si forma un ascesso un granuloma sull'apice della radice quando la polpa muore puoi esitare appunto poi in un ascesso ok per esempio questo cagnolino questo maltese che in realtà ha una frattura della radice mesiale palatale aveva una fistola quindi questo ascesso che viene dal dente e drena a livello cutaneo se l'è tenuto per un anno perché vari colleghi non avevano individuato il problema cioè non sapevano proprio riconoscere il fatto che una lesione di questo tipo l'80% delle volte è dovuta a una patologia endodontica quindi aveva fatto citologie terapie guariva e poi ritornava quindi hanno solo diciamo ritardato la risoluzione del problema questo è un altro cagnolino uguale con le fistole cutane mascellare suborbitali da entrambi i lati anche questi causati dalle fratture dei denti il 30% delle fratture dentali riguardano sempre questo dente che viene chiamato il carnassiale sarebbe il quarto premolare mascellare quindi quando noi andiamo a visitare un paziente dobbiamo sempre guardarlo questo dente perché hanno visto che il cane può sprigionare una forza masticando molto superiore a quella sufficiente per rompere per rompersi i denti soprattutto se usa se mastica oggetti molto duri come sassi corno di cervo o ossa quindi bisogna sempre buttarci un occhio e diciamo queste patologie endodontiche devono essere sempre indagate con la radologia intraorale soprattutto quando vengono fatte le estrazioni perché come in questo caso questa è una immagine diciamo di un caso che ho trattato io avevo lasciato una radice me ne sono accorto prima di svegliare il paziente se vengono lasciati frammenti di radici l'ascesso recidiva cioè praticamente sempre è quasi sicuro che l'ascesso recidiva e si può arrivare a situazioni veramente disastrose cioè veramente devastanti per il paziente quindi la terapia antibiotica è solo un quadiuvante della chirurgia se non andiamo a togliere meccanicamente il dente infetto abbiamo recidive praticamente sempre quindi tra le cause di patologie endodontiche le più comuni sono i traumi le fratture ma anche i traumi che non portano a fratture come le concussioni possono portare appunto a pulpite e poi a morte del dente mentre quelle più comuni sono appunto le fratture complicate che vuol dire che la polpa che è in un ambiente chiuso sterile viene esposta all'ambiente esterno all'ambiente della bocca e quindi essendo piena di batteri passano appunto dalla bocca alla polpa e la infettano fai un attimo che bevo una diretta è meglio quindi che cosa succede una volta che viene esposta la polpa le strade sono due a livello terapeutico o si estrae il dente o si fa la devitalizzazione il trattamento endodontico non ci sono altri modi è per intervenire non bisogna aspettare il wait and seal aspetta e vediamo no non serve a un cavolo cioè se voi vedete un cane con una frattura esposta quindi complicata con la polpa esposta bisogna intervenire non bisogna aspettare questo per esempio questa foto è stato uno dei miei primi casi di odontostomatologia quando ero appunto negli Emirati Arabi questo gatto aveva da anni una rinite monolaterale con scolo pur lento che non rispondeva più a nessun antibiotico dato da insomma altri colleghi eccetera questo era causato che cosa? dalla frattura complicata del canino macellare ha creato che cosa? una patologia diciamo una lesione periapicale quindi l'ascesso in realtà aveva sfondato l'osso macellare ed era entrato in cavità nasale ok quindi questo gatto finché non abbiamo estratto il dente non avrebbe mai risolto il suo problema i gatti anche vivendo in casa scusate anche vivendo in casa possono fratturarsi i canini macellari infatti non so se ci avete fatto caso in visita comunemente ci hanno a volte i gatti anziani i canini sbeccucciati perché anche diciamo atterrando male da un armadio si possono spaccare il canino il problema è che a livello proprio anatomico la distanza tra la punta del dente e la polpa nel gatto è un millimetro o un massimo un millimetro e mezzo quindi anche una piccola frattura può provocare in realtà una esposizione della polpa e quindi va trattata invece quando non c'è frattura ci può essere comunque una patologia endodontica quando il dente per esempio è morto è disvitale se vedete un cane o un gatto con un dente rosso nel 92% dei casi questo è un dente morto che c'ha necrosi pulpare quindi in realtà va trattato quindi sono lesioni che fanno male cioè non sempre ovviamente il proprietario se ne accorge ma a volte quello che mi viene riferito è che il cane non gioca più con la corda si ritira cioè nel senso vuole giocare ma poi si tira indietro perché ha un ascesso una lesione pirapicale e questo fa male allora per quanto riguarda invece le visite per esempio nei cuccioli o comunque nel primo anno di vita i primi sei mesi di vita sarebbe meglio del cane e del gatto questa è una diciamo una cosa molto importante fondamentale i denti dei cibi persistenti come nei bambini succede spesso soprattutto nelle razze di piccola taglia o brachicefaliche che i denti da latte non esfoliano rimangono lì e questo è un problema ok perché porta molte conseguenze ora le vediamo però la regola qual è quindi se fate la visita diciamo a un cucciolo l'età ideale per verificare se c'è un problema del genere o comunque se c'è un problema di malocclusione è intorno ai sei mesi malocclusione in realtà anche prima però se ci sono diciamo denti da latte persistenti il cambio della dentizione noi ce l'abbiamo a sei mesi di età all'incirca quindi dalla vostra visita al cucciolo dipende in realtà la salute del cavorale potenzialmente di tutta la vita di quest'animale del resto della sua vita quindi se non segnalate dei denti da latte che non cadono potenzialmente lui potrebbe avere problemi importanti per tutto il resto della sua vita quindi non devono essere presenti in realtà due denti dello stesso tipo al massimo una tollerabilità di due settimane a volte succede che soprattutto nei canini mandibolari ma dopo bisogna intervenire perché se non viene estratto ci sono diverse conseguenze la prima è che si crea uno spazio strettissimo tra il dente da latte e quello definitivo dove si accumula veramente un sacco di sporcizia e si accelera appunto la malattia volodontale ma si possono creare anche malocclusioni e quando vengono diciamo estratti anche qui bisognerebbe sempre fare la radiografia di controllo perché lasciare un frammento può voler dire far ammalare in realtà infettare anche il dente definitivo e questo insomma un proprietario non lo vuole assolutamente soprattutto se sono cani anche da esposizione o di razza eccetera un'altra cosa che possiamo trovare visitando i cuccioli sono le malocclusioni e vanno trattate si possono trattare anche con con l'ortodonsia con gli apparecchi però lo scopo è medico cioè non è estetico non ci interessa che abbia che abbia un sorriso bello da vedere ma noi dobbiamo trattare il paziente in modo che non abbia dolore quindi se lui si provoca del traumatismo si ferisce perché i denti sono storti allora lì dobbiamo andare a intervenire poi vi lascio comunque il pdf della presentazione per esempio questa tabella è molto utile perché si vede come i denti dovrebbero interdigitarsi cioè incastrarsi tra loro per essere un'occlusione normale che si chiama ortoocclusione invece ci sono varie classi di malocclusione sono qui classificate quindi si può intervenire in alcuni casi pur di salvare il dente anche con gli apparecchi altrimenti con le estrazioni ovviamente come sempre un'altra patologia che potete trovare in animali giovani è al cambio della dentizione la gengivite per plastica giovanile nel gatto ovviamente che ha tutte queste cavolo di malattie infiammatorie della bocca praticamente è una sorta di gengivite che fa aumentare le dimensioni il il tessuto gengivale che però se non viene trattata porta a malattia parodontale precoce questi gatti spesso ha già due tre anni tutti i denti sono completamente marci quindi anche qua bisogna intervenire tempestivamente e poi soprattutto istruire il proprietario se è un gatto particolarmente buono quindi cosa poco probabile a meno che non è un persiano uno sphinx eccetera di spazzolari denti quotidianamente questa è invece la gallina delle uova d'oro dei produttori del depometrole del convegna ok allora la stomatite caudale felina o gengivostomatite cronica felina diciamo è una delle patologie più frustranti anche per l'odontostomatologo perché a tutt'oggi non è possibile trattare il 100% dei pazienti e avere una risoluzione completa ok poi ora ve ne parlo brevemente però partiamo dalla diciamo proprio dalla definizione ok prima veniva chiamata anche faucite non è corretto ok perché le fauci ok come vedete non fanno non fanno parte più della diciamo non fanno già parte della cavità orale ma è l'inizio in realtà del tratto digerente eh la parte prima dell'esofago il cavo orale finisce a livello degli archipalatoglossi che sono queste pieghe eh dietro la lingua laterale della lingua quindi le lesioni ulcerose riguardano che cosa la mucosa orale caudale eh come vedete qua questa diciamo la parte senza denti in fondo e quindi si chiama anche stomatite caudale ma non faucite non è non è corretto eh come dicevo ad oggi diciamo ancora oggi la terapia indicata dalla bibliografia è l'estrazione dentale di tutti i denti eh a volte si può provare anche solo a estrarre i denti aborali cioè lasciare i canini incisivi però tendenzialmente la terapia è questa le estrazioni totali le statistiche ci dicono che se vengono effettuate correttamente le estrazioni quindi senza lasciare ovviamente radici c'è una risoluzione completa nel 70% dei pazienti nel restante 20% c'è un netto miglioramento ma comunque saranno necessarie terapie croniche mentre nel restante 8% circa non c'è miglioramento e nei casi refrattari si possono provare anche terapie di nuova generazione come le cellule staminali mesenchimali o come terapie alternative come il laser terapeutico chirurgico eccetera ma il depometro alla vita non è un'opzione ok cioè può essere usato l'ho usato anch'io in casi in cui arriva un gatto cachettico dal quale è impossibile dargli qualcosa per bocca impossibile che il proprietario riesca a dare qualcosa per bocca e quindi sì si può si può anche usare ma non può essere la terapia rutinaria ok perché ci sono diciamo tante conseguenze tanti effetti collaterali soprattutto il diabete per esempio che nel gatto proprio insomma ne ho visti tantissimi che sono diventati diabetici per il depometroli questo è uno dei primi casi che ho trattato quando proprio ho iniziato insomma a interessarmi alle bocche marce e niente per quanto riguarda la base della terapia medica è sempre la gestione del dolore è la terapia analgesica quindi si deve usare una terapia analgesica multimodale e ovviamente può essere molto complicato dare tutta sta roba per bocca a un gatto che ha la stomatite eventualmente se dobbiamo fare delle scelte se il proprietario non è particolarmente compliante o il gatto è insomma poco collaborativo possiamo dare il cortisone ma il prenisolone a dosaggio antinfiammatorio giornaliero ok magari prima bid e poi si gradualmente ridurlo fino al minimo dosaggio efficace ma ma non i cortisonici a deposito e in situazioni di emergenza una cosa molto carina che diciamo è banale semplicissima da fare però soprattutto nelle patologie ulcerose del cavo orale quindi anche della stomatite cronica felina è il magic mouthwash ok è proprio semplicissimo se ne somministra un ml un ml una ventina di minuti prima di offrire il pasto e da sollievo quindi in alcuni casi può aiutare questa patologia vi dico un aneddoto così un pochino per per staccare mi ricordo mi ricordo un racconto di un collega no che cosa è successo è arrivata una cliente con l'atteggiamento diciamo un po' saputella che sapeva tutto lei che chiede al dottore di visitare appunto il suo il suo micio e prima di finire la visita gli dice senta dottore può controllare che non abbia anche la forla il collega è un pochino incerto che cosa fa prende gli alza la coda gli guarda la zona regione perianale la dovete conoscere più che altro almeno sapere che cos'è perché il 70% dei gatti oltre i 6 anni 8 anni ce l'hanno quindi praticamente 2-3 gatti su 4 tantissimi si chiama in realtà il vero nome sono lesioni odontoclastiche del rassorbimento e che cosa provocano praticamente la causa è sconosciuta ancora non è stata individuata si crede che possa esserci una responsabilità dei cibi commerciali che a volte hanno un quantitativo eccessivo di vitamina D però non è stato dimostrato quello che succede è che il dente viene non riconosciuto più self dal sistema immunitario quindi sempre gli osteoclasti gli stessi della malattia valodontale lo mangiano cioè iniziano proprio a mangiarlo soprattutto a livello di funzione tra corona e radice e che cosa succede se questo fenomeno succede a livello delle radici si pensa che non sia doloroso ok se invece succede a livello di appunto corona si creano tutte le ulcere si creano tutte le mucosite intorno e quindi è insomma una patologia dolorosa quindi si interviene anche qui facendo cosa estraendo ovviamente o in alcuni casi si fa un'amputazione coronale cioè si taglia la corona e si lasciano le radici dentro però ci devono essere dei presupposti non si può fare sempre questa è anche un'altra presentazione che spesso vi trovate nei gatti anziani in visita e non è altro che l'osteomielite dell'osso alveolare non si chiama osteomielite perché non c'è midollo a livello dell'osso macellare ce n'è pochissimo a livello di osso mandibolare però è la stessa cosa l'osso è patologico si gonfia e che cosa provoca? estrude i canini cioè alcuni gatti fanno ridere perché sembrano dei vampirini perché praticamente il dente viene proprio buttato fuori però in realtà fa poco ridere perché fa male c'è una patologia e quindi va trattata quindi viene estratto il dente ma che cosa? viene tolto anche tutto quest'osso che è come un ambientale è tutto poroso pieno di tessuto di granulazione infiammatorio e poi viene richiuso il tutto con un bel flap muco gengivale un'altra patologia così che va nominata giusto per nominare è il granulomo esinofilico presente nel gatto ma anche nel cane soprattutto in alcune razze tipo il cavalier king nel dubbio sempre fare l'istologia e poi se viene appunto che è un granulomo esinofilico se ci sono lesioni particolarmente superanti si può intervenire perché ovviamente a un gatto possono dar fastidio per la masticazione e se no poi si riferisce ovviamente alla mandetta insomma al dermatologo ok un attimino un sorso d'acqua ora viene la parte un pochino più interessante allora questa parte insieme alle fratture mandibolari sono gli argomenti che mi piacciono moltissimo perché dopo il corso il gp cert cioè prima non ne sapevo assolutissimamente niente mi si è aperto un mondo ovviamente sconosciuto e almeno non si risolve tutto come al solito con cacciare via i denti insomma qualcosa di un pochino più interessante e anche se la prevalenza sembra piuttosto bassa dei tumori del cavolare in realtà nella pratica clinica se ne vedono ed è importante saperli riconoscere nel gatto per esempio sono sempre quasi sempre maligni se sono tumori in bocca e nel cane un po' meno in bocca i più comuni tra i tumori maligni sono il melanoma maligno e il carcinoma squamo cellulare una cosa interessante se vedete un paziente di mezza età insomma sui sette anni in su o anziano con lesioni del muso che ne deformano il profilo nel 70% delle volte è una neoplasia maligna quindi non sottovalutiamo ok un'altra cosa il termine epulidi non va bene cioè nel senso è un termine obsoleto che vuol dire solo neoformazione della gengiva quindi non non usiamolo più cioè non vuol dire niente ok quindi ci troviamo con una neoformazione c'è un cicciolo in bocca cosa facciamo l'iter terapeutico non può prescindere da quello diagnostico ok bisogna non è che si piglia e si leva bisogna per forza fare la diagnostica che in oncologia si chiama stadiazione ovvero individuare l'istotipo cioè dare un nome a questa lesione tramite l'esame istotipo più la diagnostica per immagini che è indispensabile se vogliamo andare a operare il paziente soprattutto se sospettiamo che sia un tumore maligno e per valutare che cosa se ci sono delle metastasi perdono questa Coca-Cola quindi rimane i posteri lardo a sentenza quindi perché è importante la diagnostica per immagine avanzata per individuare se ci sono metastasi e quindi già la prognosi prende diciamo una strada o un'altra ma se vogliamo andare a operare il paziente per individuare i margini ok quindi se un tumore maligno soprattutto quando sono ulcerati il sospetto ci sta quasi sempre bisogna ricercare i linfonodi sentinella ok ora vediamo cosa sono i linfonodi sentinella se ci troviamo però ovviamente tutta sta roba costa un sacco di sordi quindi se il proprietario ha magari diciamo un pochino di tubante o ha un problema economico la prima cosa da fare è almeno individuare questo tipo cioè fare la biopsia ok o anche voi se non siete convinti dite oddio propongo mille euro di preventivo e poi magari ha lesioni infiammatorie va bene facciamo la biopsia però che deve essere sempre incisionale ok in un secondo momento magari poi facciamo tutto il resto se esce fuori che è un tumore maligno facciamo tutto il resto della diagnostica anche se con alcuni tipi di tumori come alcuni tipi di melanoma maligno o alcuni tipi di fibrosarcomi soprattutto quelli di impazienti spesso giovani anche due settimane possono fare la differenza insomma per per la prognosi quindi parlavamo del linfonodo sentinella perché è importante stadiare i linfonodi e individuare quello sentinella quando c'è un tumore maligno perché questo ci dice la bibliografia gli studi che la metà dei linfonodi metastatici non è aumentato di volume cioè è sconcertante questo nel senso questa statistica quindi tutte le volte che dici no vabbè ma i linfonodi non sono aumentati di dimensione cioè sono metastatici in realtà una volta su due è stata inagazzata quindi bisogna sempre indagare eh e la metà delle volte soprattutto in un tumore maligno eh linfonodo sentinella non è quello vicino non è quello tributario quindi perché i tumori non guardano i libri di anatomia cioè nel senso eh sono tumori maligni quindi sono strutture strutture abberranti e possono drenare anche un linfonodo particolarmente magari dal lato opposto cioè abbiamo un anomalino sul lato destro della mandibola drena al linfonodo retrofaringe sinistro questo può succedere quindi bisogna individuarli e ci sono diciamo varie tecniche questi sono alcuni esempi diciamo di pazienti eh questo mi hanno comunicato proprio oggi che ha fatto l'eutanasia poverino però è campato sei mesi che per un melanoma maligno in questo stadio è tantissimo i proprietari ovviamente erano informati della proniosi in fausta e i pazienti mangiano la sera stessa quindi quando noi diciamo no i proprietari oddio ma è una chirurgia demolitiva dottor non non la voglio proprio non ci voglio neanche pensare in realtà dobbiamo essere noi gli stessi che ci crediamo a proporla perché se no se non ci crediamo in una cosa il proprietario si accorge cioè nel senso non lo convinciamo salvo alcuni casi il paziente sta meglio senza questo schifo di lesione in bocca quindi la sera stessa mangiano poi le fratture ha altra diciamo mia passione allora le fratture della mandibola e anche della mascella fanno sempre parte del campo dell'ortopedia ma sono regioni anatomiche molto diverse dagli arti quindi hanno delle differenze importanti che vanno rispettate quando vengono approcciate in maniera chirurgica se no si rischia di fare un disastro innanzitutto possiamo diciamo possono essere puramente traumatiche o patologiche patologiche che vuol dire cioè quando la qualità e la struttura dell'osso è stata già compromessa da un'altra malattia la cosa più comune è dalla malattia parodontale che provoca l'isi ossea e come in questo paziente che è venuto in visita è stato messo diciamo in appuntamento ed era venuto mi sembra una domenica forse in urgenza ed era la bocca storta poverino ma perché c'è una doppia frattura mandibolare dai denti completamente fracili che avevano mangiato l'osso ok la diagnostica anche qui ha un ruolo abbastanza importante guardate che differenza diciamo nel valutare la frattura dal metodo più grossolano che è sicuramente la radiologia extraorale insomma quella classica fino al dettaglio che ha la radiologia intraorale e veramente bellissima la TAC cioè ci dà delle immagini utilissime oltre che a un dettaglio molto figo da vedere una ricostruzione in 3D quindi è importante avere una diagnosi completa che si può ottenere purtroppo in alcuni casi solo con la TAC soprattutto nei High Reins High Reins Syndrome cioè la la sindrome del gatto che si che prende una botta forte o nei gatti Flying Cat nei gatti che si buttano dal terrazzo che fanno un incidente perché i traumi i traumi facciali spesso sono multipli cioè hanno visto che gatti per esempio quella classica lesione che tutti dicono la frattura della simfisi che non si chiama frattura della simfisi perché la simfisi è un'articolazione quindi si chiama separazione della simfisi 8 gatti su 10 che hanno lesioni appunto a livello di mandibola rostrale hanno altre fratture mandibolari e alcune soprattutto quelle a livello di articolazione temporomandibolare senza la TAC non possono essere alcune neanche diagnosticate quindi neanche trattate ok quindi il classico cerchiaggio mandibolare per la frattura della simfisi non risolve tutto cioè nel senso c'è un mondo dietro questo non so se parte il video questo per esempio è un gatto che si aveva la separazione della simfisi ovviamente è stato proposto la TAC perché aveva anche una palata schisi completa del palato primario secondario ma sto gatto aveva 12 fratture cioè è una cosa impressionante questo senza la TAC che non le avremmo neanche viste tant'è che ha avuto tantissimi diversi tra lo splacno e neurocranio ok senza la TAC non si possono trattare questi pazienti quindi brevemente cose importanti da tenere a mente anche per chi fa pronto soccorso quasi sempre le fratture del cavo diciamo mandibolare sono esposte ok questo è dovuto proprio alla biomeccanica che caratterizza la mandibola tutti i muscoli masticatori la maggior parte hanno le loro inserzioni a livello caudale quindi a livello scusate poi sono professionista i muscoli masticatori hanno quindi le loro inserzioni tutte a livello di ramo verticale che è la parte dietro della mandibola quindi immaginate voi è come una leva quando entrano in azione che cosa succede per chiudere la bocca se c'è una frattura sulla mandibola i monconi si separano ok quello rostrale si piega verso il basso mentre quello caudale perfora la mucosa orale quindi sono praticamente quasi sempre fratture esposte quindi per evitare che nel frattempo che si valuta il da farsi si riferisce all'ortopedico o meglio al dentista bisogna limitare i danni ai tessuti molli quindi in pronto soccorso mettiamo le museruole anche quelle di nylon vanno benissimo se non ce l'abbiamo ovviamente della misura giusta la facciamo con un cerotto zincato per esempio nel gatto si possono mettere i bottoni labiali che però ovviamente vanno fatti in sedazione quindi insomma si valuta la cosa magari prima però nel cane veramente senza sedazione senza niente mettiamo la museruola fino a che non andiamo a approcciare la frattura in alcuni tipi di fratture che sono magari molto stabili o se il proprietario ha un budget limitatissimo anche solo questi metodi possono essere l'unico mezzo di fissazione e funzionano nel senso ovviamente va selezionato il caso quindi senza entrare nel dettaglio ci sono numerosissime tecniche in base soprattutto alla localizzazione della frattura però una cosa fondamentale quando si trattano le fratture mandibolari questo è un po' come quando si trattano le fratture degli arti devi sempre valutare che sia ruotata correttamente la stessa cosa vale per la mandibola bisogna sempre rispettare l'occlusione cioè i denti devono incastrarsi tra loro in maniera corretta perché se no il cane il paziente quando andrà a usare la bocca magari con il mezzo di fissazione e i denti sbattono in maniera scorretta spacca tutto si creano delle forze che vanno a rendere vano tutto il lavoro che è stato fatto inoltre gli elementi dentali vanno rispettati cioè non è che prendiamo chiodi iniziamo a bucare a caso la mandibola e becchiamo tutte le radici dentali no perché questo provoca dei danni e ritarda anche la in realtà la guarigione quindi spesso la cosa migliore è collaborare quindi collaborazione tra ortopedico e odontoiatra ok tutta questa marea di informazioni questa lista della spesa è un pochino per dire che alla fine l'odontoiatria non è fare una pulizia dei denti una detartrasi ma qualcosa di più ovvero fare una diagnosi e contestualmente una terapia ok e poi anche la profilassi inglese ha questo nome COAT si dice comprehensive oral health assessment and treatment ok ora se vi trovate voi insomma a dover eseguire un'igiene orale ok può succedere ovviamente non è che tutto lo devono fare sempre per forza i specialisti però per farla in maniera diciamo corretta almeno non nuocere se poi ovviamente ci rendiamo conto che c'è un problema serio sotto conviene ovviamente riferirla questi sono alcuni suggerimenti quindi per non danneggiare le strutture o gli elementi dentali bisogna usare l'abratore va sempre usato in un certo modo ovvero con una potenza minimo indispensabile per riuscire a muovere placca e tartaro se a volte non funziona o funziona poco in realtà è un problema di usura spesso è la punta che è troppo vecchia ok vedete da questo disegno cioè ogni millimetro di punta viene meno perché si è consumata il 25% dell'efficacia dello strumento viene persa quindi invece di mettere la potenza al massimo che può fare dei danni importanti sui denti magari cambiamo la punta oppure non è avvitata in maniera corretta al manipolo quindi controlliamo poi non bisogna rimanere per più di 15 secondi sullo stesso dente ok se no si surriscalda si può indurre la pulpite quella che abbiamo visto prima cioè portare anche a patologia endodontica quindi cosa si fa non è che si lascia lì mezzo sporco il dente si passa al dente accanto anche lì ci si sta 15 secondi e poi si torna al dente di prima e la punta va usata non perpendicolarmente ok perché perpendicolarmente può andare a scalfire e a togliere proprio lo strato di smalto che invece è fondamentale per mantenere il dente in salute quindi va usato sempre il lato ok e con una minima pressione perché il principio è quello delle vibrazioni quindi se noi premiamo molto ci sono meno vibrazioni quindi più premi meno vibra ed è meno efficace rimuovere il start dopo aver usato l'abblatore in realtà lo smalto viene tutto graffiato questo si vede più che altro a livello microscopio elettronico però questi questi graffi sullo smalto favoriscono la ricolonizzazione da parte della placca in pochissimo tempo quindi se non viene anche lucidato lo smalto è normale che a volte i proprietari dicono ah cavolo dopo un mese erano già tutti i suoi denti aver fatto la detartrasi perché probabilmente non è stata fatta in maniera adeguata complicazioni gravi o potenzialmente anche mortali sono state riportate in bibliografia per un uso scorretto degli strumenti durante le estrazioni un esempio sono le le perforazioni del globo oculare o le perforazioni addirittura del cervello dell'encefalo questo può succedere soprattutto ovviamente nei brachicessi nei cani brachicefalici per una conformazione anatomica però in realtà come vedete da questo da questo teschio il secondo e terzo mulare mascellare sono in prossimità dell'occhio della regione del globo oculare quindi in linea generale se vediamo dobbiamo fare un'estrazione in realtà quello che vi consiglio è se un dente è mobile si può estrarre anche con la tecnica chiusa se molto mobile altrimenti bisogna sempre preferire la tecnica chirurgica quindi l'incisione scollare il flappo mucogengivale rimuovere l'osso alveolare intorno alla radice sezionare il dente se ha più radici estrarre un pezzo alla volta controllare che non ci siano frammenti di radice e richiudere tutto in maniera adeguata quindi se non conoscete la tecnica non siete allenati trained per fare queste procedure riferite piuttosto che fare danni perché si può veramente incorrere in problemi gravi questa è invece un'altra cosa che tutti noi dobbiamo sapere pure per esempio gli endoscopisti lo sanno non bisogna mai usare apri bocca a molla nel gatto cioè qui siamo veramente è difficile che un proprietario lo sappia che tu l'hai usato ma se fai metti caso una foto del cavolo la metti su facebook e c'è il gatto con la con la prebocca molla e succede qualcosa a quel gatto ti possono denunciare perché questo è proprio risaputo cioè è stato dimostrato che per una particolarità anatomica della vascularizzazione arteriosa dell'encefalo del gatto è fondamentale l'afflusso di sangue che viene dall'arteria macellare che passa proprio dietro l'articolazione temporomandibolare quindi hanno visto che facendo anche degli studi con mezzo di contrasto studi TAC vascolari che se la mandibola viene aperta in maniera importante viene schiacciata l'arteria macellare si occlude e si crea ischemia cerebrale con cecità danni cerebrali permanenti o anche morte ok ok se vi piace questa materia potete iscrivervi al corso dove farò da docente il prossimo anno ci sono domande? sì sui cuori del camorale la risanglorapia nel melanoma li toglie tutti comunque teoricamente sì dovresti la fai comunque perché se magari in chirurgia hai delle difficoltà nel fare linfadenectomia almeno togli il sentinella però l'iter dovrebbe essere ora poi non ci sono devono uscire ancora degli studi che ne dimostrano proprio l'utilità perché per adesso ci sono solo in umana soprattutto sulla miglior prognosi della linfadenectomia ancora non è che ci sono tanti studi in veterinario ok sono più che altro dal campo umano e cosa bisognerebbe fare individuare i sentinella per esempio durante la TAC con la linfografia quella con il mezzo di contrasto l'olio ex solo però in realtà c'è un altro mezzo di che però è di difficilissima reperibilità che è l'olio ex solo è idrosolubile idrosolubile no diciamo non è lipofilico mentre quest'altro mezzo di contrasto proprio nei vasi linfatici ci va da dio e ci rimane anche 12-24 ore quindi te tipo fai l'infiltrazione intorno alla lesione e per 12-24 ore anche solo con le radiografie puoi individuare il linfonodi sentinella ora non mi ricordo il nome di questo mezzo di contrasto però i mezzi diciamo che abbiamo di solito questo dobbiamo fare trovare l'infono sentinella se è un mandibolare campionarlo perché poi quello si riesce a campionare bene anche con guidato è ratofralingeo un po' più complicato anche perché c'hai sotto la carotide quindi sì teoricamente dovresti fare le citologie che c'è un'accuratezza del 70% ovunque se no individui i sentinella togli almeno quello però nei tumori maligni hanno tolti i linfonodi cioè se no lasci potenzialmente il primo eh? c'è proprio a parte lo studio sì si tolgono sì sì solo che è un'altra chirurgia cioè se tu devi togliere per esempio dalla TAC ti serve anche per individuare quanti mandibolari c'ha un cane perché un cane può avere per lato da 2 a 8 mandibolari cioè ci sono cani che hanno 8 linfonodi mandibolari per lato quindi cioè leva 16 linfonodi mandibolari quanto ci metti? quindi bisogna un po' contestualizzare però per esempio il melanoma maligno muori per metastasi cioè quasi mai muori per il tumore primario quindi i linfonodi che è il primo punto di passaggio delle metastasi li devi togliere posso rottare finalmente libertà va bene non so come si fa a chiudere qua beh sono stato veloce dai pensavo di no termina dove vieni questi? no in che senso? eh questo è un'altra presentazione sì 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 allora i cibi bisogna preferire ovviamente i cibi secchi però il problema dei cibi secchi commerciali è che comunque hanno carboidrati quelli in realtà accelerano tanto la malattia protontale e quindi quello che sappiamo è che la cosa più efficace di tutti è spazzolare una volta al giorno i denti cioè l'azione meccanica delle sedole è la cosa più efficace di tutti cioè gruppi di cani che non hanno fatto niente per sei mesi i gruppi che hanno spazzolato i denti ogni 24 o anche 48 ore è efficace ma quando lo dice il proprietario parti già ogni 24 ore se no lo fa una volta al mese è la cosa più efficace di tutti ok spazzolino va bene umano sedole morbide anche senza dentifricio il dentifricio si mette perché a sapore magari lo prendi al sapore di carne fegato esistono e quindi lo gratifichi e poi la clorexidina quella funziona nel senso ci sono vari dosaggi vari ciao ciao però anche quelli hanno dimostrato che quindi facendo clorexidina mattina e sera l'efficacia in bocca è di 8 ore circa mattina e sera più o meno copri insomma tutto il giorno spazzolari i denti una volta al giorno e poi tra tutti gli snack pochissimi hanno fatto dei trial clinici tra cui quelli con l'alga l'ascofilum nodosum che in realtà non ha un'azione meccanica che pulisce il dente ma il carboidrato che la compone lo avvolge lo rende scivoloso sembra alla placca ok quello tipo il resto milla dental crop ma ce ne sono tantissimo e quello pure è dato tutti i giorni aiuto sì per lungo utilizzo LP cioè sì che proprio ce lo puoi usare sempre sempre mattina e sera sempre nei cessetti sì poi in certi cani già tre anni bisogna intervenire cioè non c'è verso spitz maltesi toy chihuahua cioè bassotti a volte dipende alcuni soggetti magari a dieci anni non sono messi così male ma la maggior parte sono disastri giusto andrea ti sai come si interrompe la registrazione perché hanno detto prima di terminare devi interrompere la registrazione questo zoom aspetta come c'è grazie mille grazie a voi aspetta bravo non ti rompi l'illusione grazie a voi grazie a voi grazie a voi